Wow! 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 Non mangiare! Guarda! Ragazzi, comprate le nostre unghie e le nostre magliette su www.vanityglow.shop Ciao ragazzi, sto facendo una torta al cuore di cioccolato e nocciola. Faccio una sorpresa alla mamma. E voi l'avete mai fatto una torta di nasco sotto alla vostra mamma? Ora mettiamo un po' di questa qua. Ora che l'abbiamo messa facciamo un po' così. Così c'è da tutte le parti. Ok, adesso vado nel congelatore a prendere i cioccolatini che ho formato prima con il cavolo del cavolo. Questi sono i cioccolatini. Ok, andiamo facendo tutto. Ho preso e li metto un po'. Ok, è l'ultimo e li metto qui. Ok, adesso vado a lavare le mie mani. Ora butto tutto quello che è rimasto qua dentro e poi li metto in forno. un po' di cuore. 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 Ok, è fatta. Ok, in fornato ci vediamo dopo con la volta che ho fatto alla mamma per una sorpresa. Non ditevi niente. Ciao. Bene. Bene. Cosa fai? Studi? Cosa devi studiare per domani? Storia. Storia. Un bel po' di pagine. Ti connetti con le tue compagne? Sì. Studiate insieme? Sì. Però mi raccomando. Ok? Ma io sento un profumo di dolce. Stavo a stellello e ho iniziato a sentire un profumo di dolce. Ti sei lavato? Ma sono bagnati Vanessa. Sono male. No, Vanessa ti ha male. Si è raffreddata. Comunque sento questo profumo di dolce e vado giù a vedere. Sarà la vicina. Vabbè. Buono studio. Ci vediamo dopo, ok? Ciao. Eh, ciao. Grazie, la torta è pronta. Non vedo l'ora di mangiarla, però la devo mettere sul piatto. Non posso fare. Fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Ora la metto qui sopra. Wow. E adesso un po' di zucchero a vino. Se hai un profumo di dolce in questa casa, sembra che qualcuno abbia fatto un dolce, ma io no e quindi... Ani? Ciao. Ma cosa stai facendo? Questa è la torta. Ah! Hai fatto una torta? Sì. Ma sentivo questo profumo di dolce buonissimo da sopra e ho detto, sarà la vicina. Ma scusami Anastasia, ma come hai fatto a fare una torta? Non l'hai mai fatta tu una torta? Su Instagram tutto telefono. Non ci credo. È già la ricetta. E hai fatto tu tutta questa torta? Sì. Ma sarà buonissima? Speriamo. Un chilo di zucchero a velo? Va bene. Che buono! Ma che brava! Ma che sorpresa fantastica! Nessuno mi aveva mai fatto una torta, a parte la mia mamma. Bene! E allora non ci resta che assaggiarla. Sì. Così poi ne portiamo anche una fettina a Vanessa che sta studiando. Sì. Con le amiche. Sì. Ok. Assaggiamo? Sì. Prendiamo un coltello? Sì. Guarda, se la torta che hai fatto è buona la farai sempre tu. Questo. Perfetto. La farai sempre tu. E io non ne farò più neanche mezza. Sì. Dobbiamo prendere anche i piattini. In mezzo. Guarda. Così. Vado a prendere i piattini e li taglio. Si taglia nel centro. E poi? E poi così. E poi facciamo le fettine. Va bene? Sì. Sei bravissima. Vado a prendere i piattini. Sì. Sì. L'ho già tagliata proprio le tappie. Brava. Allora. Che brava. Wow. Ma non è troppo grossa? No. Per me è perfetta. Per te è perfetta. Per te è perfetta. Golosona. Però, guarda, io metà. Brava. Io metà perché è troppo grossa. Mmm. Ma cosa ci metto dentro, amore? La farina di nozzale e il cioccolato. Col cioccolato. Che buona. Assaggia. Io amo le nocciole, lo sai. Dai, assaggia prima tu. Mmm. La mia è prima. È buona? Sì. La mangierò tutta. La mangierò tutta anche con quest'altro pezzettino, vuoi dire? Ok, l'assaggio subito allora. Davvero è buona. Sei stata brava. Oddio, amore, sono commossa, emozionata. Mi hai fatto una torta. Amore, è buonissima. Poi io amo le nocciole. Mi hai fatto proprio una sorpresa fantastica. Hai scelto gli ingredienti che adoro. Fammi vedere il cuore di cioccolato. Cioccolato. Col cuore di cioccolato dentro. Wow. Ma hai congelato il cioccolato e poi l'hai messo dentro. Ma hai guardato la ricetta davvero? O ti ha aiutato papà? No. Io so qual è la ricetta. L'ho salvata l'altro giorno da un account su Instagram. Complimenti, amore. L'altro giorno da un account su Instagram. Hai ragione, infatti. Adesso ne portiamo un pezzetto a Cavane. Portiamo a Vanessina, amore? Sì. Dai, così con una buona dose di torta alla nocciola l'energia aumenta. Perfetto. Anche un bel bicchiere di latte perché Vanessi è come me, le piace mangiare la torta insieme al latte. Al latte. Al latte, esatto. E le portiamo anche in toglia. Certo. Che brava sorellina. Cioè, oggi sei super. Però mi porto la portetta. Che vuoi? Quanto dopo andiamo a farla fare? Eh, dopo andiamo a comprare le merende che servono per domani a scuola, ok? Vane! Ti abbiamo portato una merendina buonissima. Ma lo sai una cosa? Eh? Che Anastasia mi ha fatto una torta oggi di nascosto mentre io ero su che stendevo e che facevo le pulizie. Senti che buona. torta alle nocciole con crema al cioccolato. Quella crema nocciole. Ha congelato praticamente del cioccolato e poi l'ha messo dentro l'impasto che si è sciogliato. E di là, dall'altra parte il cioccolato. Ti piace? Uh-huh. Hai visto che brava questo? Ma l'abbiamo già fatta. Il latte. Il latte. Le gocce che non erano. Eh sì, il latte è quello che è rimasto perché ve lo siete finito tu e papà. Contenta? State studiando? Prego. E fa il cioccolato. Bene. Ciao. Continua a studiare. Andiamo Anastasia? Andiamo a comprare merende per scuola? Sì. Eh? Le abbiamo finite? Guarda! Mi hai preso la posta? Mi hai preso la posta? Mi hai preso la posta? Mi hai preso la tua, amore. È la tv. Hai la chiave così apriamo e prendiamo quello? Sì. Sì. Allora siamo andati a fare un po' di shopping anche per il bagno. E... Wow! I cestoni! Cosa c'hai messo dentro? Gli asciugamani? Sì. Che bello, amore! Così è più ordinato, vero? Sì. Bello! Bellissimo! Poi la mamma te li lava prima di utilizzarli la prima volta. Sì. Va bene? Sì. Adesso dobbiamo cenare che è diventato un po' tardi. Siamo usciti. Sì. E mettiamo il pigiamino nuovo. Mi fai vedere il pigiamino nuovo? Che bellino! Allora è questo? Di Snoopy! Te l'ha comprato il papà? Sì. Di Snoopy. Di Snoopy. Bellissimo! Eh beh, fa niente. Tira, tira, forte, forte, forte! Ah! Faccio io? Sì. Non riesco nemmeno io. Ah! E terra! Vediamo? Che io non l'ho ancora visto. Non l'ho io. Ah, ma è corto! Non si! Ma è corto! Papà non se ne ha corto! Ma sì! Ma lo sapeva? Sì. Pensavo fosse maniche lunghe. No. Bello comunque, bellissimo! Love my puppy! Love my puppy! Bello, amore! Carinissimo! Va bene! Ascolta, amore! Vado a preparare la cena. Sì! Quando è pronto vi chiamo, ok? Amore, come sei bellina! Ti piace? Sì! Stai bene? Non hai freddo? Bellissimo! Amore mio! Senti, ma tu mangi qualcosina? No! No! Non voglio niente, niente, niente! Niente, niente! Niente, niente! Niente, niente, amore! Sì? Mi hai comprato quella cosa alla mente che dopo che ti sei lavato i pellevoli... Ah, il collutorio! Sì! E oggi, visto che ho anche la maschera per le labbra, mi metto il pigiama. E facciamo il trattamento. Lo lavo anche così. Te lo faccio io a te, ok? Mi metti la maschera per le labbra? Sì, prima mi lavo la faccia. Sì? Poi mi metto la cosa lì. Va bene. Dopo me la tolgo, mi lavo la bocca con il sapone. Sì? E poi la faccio con il sapone. Ok. E poi mi lavo i denti. Sì? E metto il collutorio. Sì, prima si lavano i denti e poi si fa il suo sciacquo col collutorio. Mi raccomando, non berlo neanche un goccino, eh? D'accordo? Va bene. Perché se no? Eh, non va bene. Non si può bere, assolutamente. Perché se no cosa succede? È un medicinale. È come se... No, non va bene. Eh, ma cosa succede? E non lo so cosa succede, però non si può bere, ok? Sì, ma non è proprio. Eh, ci mancherebbe. Non è un cocktail, eh? È bello un cocktail, eh? Mamma mia! Cosa c'è? Guarda! Mi ha fatto la foto a questo orario e ti ha spaventato. No, guarda, sì! Vedi? Questo è così, il nostro. Questo è il nostro. Eh? Mm. Mm. Vabbè, ma non credo che ci sia Gagno Violino in casa. No, mamma, no! Che ci sia? Vai, fammi vedere dove andiamo a vedere questo Gagno Violino. Che ci suona una canzone. Dov'è? Vane? Qua? No, no. Ma dove? Guarda sotto. Qua sotto? Ah, come l'hai fatto a beccare? Eh, sta qua. È piccolissimo, ma sei sicura? Lo vedi? Sono piccoli, non li vedi? Sì. No, ma... No, non li vedo così piccoli. Così. Così. Ma... Scusa, ma la foto che mi hai fatto vedere prima è questo? Sì. Ce l'ho qua. Stai, vai! 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 Mi fai ridere, vai minusco. Ma prendi la... Ma... Vanessa, ma... Non so neanche se la cia... Ho capito, no? Ma tu l'hai visto, Ani? Stavo cantando, ho visto anche Ani. Ma... Come hai fatto a vederlo qua sotto? Scusami, vai a prendere l'aspirapolvere. Non riesco a prenderlo. È troppo piccolo il Ragno, è troppo grossa la ciabatta. Stai lì, Ragno Violino. Non ti muovere da lì, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Si sta spostando. Vai, vale. Fatto. Ma non muore. Ha sporcato tutto il muro. Ma scusa, ma il Ragno Violino è così piccolo? Sì. Vale, si stacca questo? Si schiaccia? No. Calma. Dammi. No. Non vuoi più. Dai. Apri. Aspetta. Allora, scusa. togli questo. Metti quello piatto che c'è di là attaccato sotto. Tira. Vai, tira. Mamma mia. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Penso che si sia sfracellato il Ragno Violino. Ok, fai così. Ma comunque, Vanessa, guarda che il Ragno Violino non è così piccolo secondo me, eh. Fanno male che non abbiamo i vicini. Mmm. Boh, qua non c'è più niente. Però, ascoltami. Sì, lo faccio. Ma è così piccolo. Ma lo fai vedere in foto? La foto che le hai fatto tu era gigante. E questo? Sì. Come fai a fare una foto del genere in un Ragno così minuscolo? Ma mi stai prendendo in giro? No, guarda. Dio mio, che brutto. Ma no, ma non è. No, sì. Mi fai, mi chiedi... Guarda. Questo è quello vero? Sì. Mi chiedi a Google, per favore, le dimensioni del Ragno Violino? Perché questo deve essere... Dimensioni del Ragno Violino piccolo. Ma no, piccolo. Dimensioni del Ragno Violino. 2 cm. Quanti? 2 cm. Ma dove? Ma dove? Allora, ragazzi, di Ragno ce ne sono tantissime. Ma non deve essere necessario... questo è un ragno batteria non è un ragno violino ma è gigante no ma adesso ma secondo me tu devi andare a fare il soprano abbiamo capito qual è la professione di Vanessa il soprano che poi non è un ragno ma è una sorta di scarafaggio o qualcosa del genere ma che stai facendo un tifo per questo ragno ma due centimetri allora compro questa qua compro questa crema che crema è? guarda che crema è crema di cardiospermum colazione antifiammatoria e cosa serve? per se ti muardo il ragno violino mandami il link ma Vanessa ma non era un ragno violino ma era minuscolo se ti muardo il ragno violino devi andare in ospedale il ragno violino è neonato però era appena nato è consigliabile chiedere consiglio al medico su come il pregio allora facciamo così ok come? se ti muardo una neovina che diventi rossa rossa andiamo subito da qui va bene però adesso hai fatto lo zaino? no e fanno si ho lasciato tutto lì adesso ritiro a posto? sei più tranquilla accendi le luci tanto di ragni noi ne abbiamo ad aiosa e dormiamo ok amore amore ma ti sei spaventata così tanto e sei così terrorizzata dal ragno violino perché puoi morire sì è vero si può morire per tante cose però mica solo per il ragno ma poi era minuscolo tu mi hai fatto vedere la foto era gigante mi sono spaventata anch'io ma non era la stessa cosa dalla foto comunque tu hai finito di fare la monella? Anastasia e Vanessa lavarsi i dentini pigiamino e tu zaino dai facciamo lo zaino Ani vieni vieni a vedere guarda qua guarda qua sopra Vanessa ci sei? vuoi vedere una cosa? un vero ragno violino? altro che quello di prima io non ho mai visto un ragno così minuscolo e lei si è spaventata per un ragno minuscolo allora sappiamo che è grande? beh abbastanza è un ragno normale diciamo vabbè cosa? vabbè ammazza hai visto? si ammazza no lo tengo per ricordare Mario è il papà del ragno violino ammazza di quello piccolino ammazza ammazza se non lo ammazzi cosa succede? se non lo ammazzi si è perché? si è perché? ha lasciato un attimo non te l'hai ammazza 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 oddio non è vero lo ammazzo subito dov'è? vabbè guardate pur di dimostrare che non è vero aiuto spacchiamo tutto stasera cucciolini ma avete visto Vanessa come si è spaventata per un ragno minuscolo che dalla foto che mi aveva fatto vedere sembrava gigante e somigliava davvero al ragno violino perché lo aveva paragonato ad una foto del ragno violino su internet e poi sono venuta qui ed era così ma era minuscolo neanche così non posso neanche farlo comunque voi siete così preoccupati di questo ragno violino come lo è lei e poi quante probabilità ci sono che ci sia in Italia so che ci sono stati dei casi in cui in Italia qualcuno è stato morso ed è anche finito in ospedale lei veramente è terrorizzata da questo annuale e voi? lo siete anche voi? scrivetemelo nei commenti e adesso vado a vedere se hanno fatto gli zaini perché domani si va a scuola ed è tassi avete fatto gli zaini? no e allora muoviamoci dai Vanessa Anastasia la merenda la mettiamo domani sali in avanti ti mangia il ragno e il violino 7 e questo è il tesoro vai vieni Vanessa si vuoi sposare si ti voglio sposare solo dopo che avrei fatto lo zaino per domani che bello si taglia non mi starà mai lì aia no cambiamo dito cambiamo mano no cambiamo dito wow adesso si taglia chissà quanto l'hai pagato è di plastica è di plastica è di plastica il tuo amore per me è di plastica quindi guarda 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 togliamolo però è bellissima grazie non si toglie si che si toglie vai tira tira come è entrato esce ok si arrabbia si arrabbia eh cosa c'è mi spegna la luce mi spegna la luce ragazzi ci siete? si andiamo a dormire dai che è tardi domani si va a scuola cucciolini cucciolini iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like se avete paura anche voi del ragno violino e comprate le nostre unghie su www.venetiglow.shop e le nostre magliette ciaoone è arrivata mezzanotte le campane sono in festa voglio spiare Pappo Natale non ci vedo niente di male presto Anastasia corriamo giù mamma